Cercherò di fare una lettura, spero non scontata, di un grande libro di Freud. È un libro del 1920, titolato Al di là del principio di piacere. È un libro che segna nel pensiero di Freud uno spartiacque, una svolta, veramente un salto nel vuoto, potremmo dire. E al centro di questa grande opera di Freud c'è un concetto nuovo, che è il Todestrib, che significa letteralmente pulsione di morte. Quindi quello che vi proporrò è una riflessione su questo concetto. A partire però da un altro libro che Freud dedica alla guerra, considerate che al di là del principio di piacere è scritto immediatamente dopo la fine della Prima Guerra Mondiale. L'altro piccolo testo che Freud scrive all'inizio della guerra, cioè nel 1915, si intitola Considerazioni sulla morte e sulla guerra. Allora cercherò di tenere insieme questi due testi, o meglio di usare questo primo piccolo testo per entrare nel cuore di al di là del principio di piacere. E vi dico subito che la novità, se posso dire così, di questa mia lettura consiste nell'introdurre una categoria che Freud non esplica in modo chiaro ed evidente e che non è una parola che appartiene al lessico della psicoanalisi tradizionalmente, sebbene appaia nell'opera di Freud in modo sparpagliato, che è la categoria di nostalgia. Dunque, partiamo da come Freud legge la morte in questo breve testo, scritto appunto all'inizio della grande tragedia della guerra. Della grande guerra. Beh, intanto qual è la sua opzione di metodo? Quella che è l'opzione di metodo della psicoanalisi in generale, quella di non credere all'ideale, quella di ricondurre costantemente la maschera dell'ideale, la maschera degli ideali, al reale della pulsione. Questa è un'operazione che, diciamo così, definisce il nostro lavoro. Guardare sempre con un certo sospetto, con un certo disincanto, la dimensione dell'ideale, perché al fondo dell'ideale c'è l'essere pulsionale. Qual è l'esempio che Freud porta proprio come primo esempio di questa operazione psicoanalitica, ricondurre, diciamo così, la dimensione sovrasensibile dell'ideale alla materialità della pulsione. Beh, un tema che ci interessa in questi tre giorni, quello dell'immortalità dell'anima. Grande tema platonico, ma non solo platonico, grande tema della filosofia. L'immortalità dell'anima. Qualcosa sopravvive dopo la morte. Come Freud legge l'immortalità dell'anima? Vi cito questo esempio per farvi capire proprio il metodo freudiano, che appare anche sconcertante nella sua radicalità. I filosofi pensano l'immortalità dell'anima, scrive Freud, perché hanno orrore del cadavere. Come dire, la filosofia dell'immortalità dell'anima sorge dall'orrore nei confronti del reale del cadavere. Quindi da questo punto di vista la teoria dell'immortalità dell'anima sarebbe un'illusione finalizzata, come tutte le illusioni religiose nella lettura che Freud ne fa, finalizzata a coprire lo scandalo della nostra radicale e inaggirabile finitudine. Quindi l'immortalità dell'anima è un'invenzione della filosofia, sarebbe un'invenzione della filosofia di fronte al reale, scabroso, indigeribile, impensabile della morte. Il secondo passo che Freud fa in questo piccolo testo ci dice ma certo gli esseri umani non potrebbero vivere se pensassero alla morte. E dunque la morte, l'orrore della morte deve subire necessariamente una grande opera collettiva di rimozione. Cito Freud, è necessario un disconoscimento collettivo della morte. Si potrebbe allora dire che il disconoscimento collettivo della morte istituisce come possibile la comunità umana o se preferite la comunità umana in quanto tale si istituisce a partire dal disconoscimento dalla morte. Cioè dal fatto che la morte, cito sempre Freud, non farebbe parte del libro mastro della vita. Ecco allora il trauma della guerra. Nella lettura che Freud ne fa il trauma della guerra sarebbe l'irruzione del reale della morte che scompagina le barriere protettive della convenzione che generano il disconoscimento della morte. Rottura delle barriere. Freud parla della guerra come di un trauma, di una irruzione del reale. Irruzione del reale. E quindi la morte diventa reale nella guerra ma non sufficientemente reale, dice Freud. perché la guerra è un fenomeno appunto di crudeltà, di aggressività che però ancora non ci tocca. Quando la morte diventa reale, terzo passo di Freud, la morte diventa reale quando ci tocca. Ci tocca da vicino, dice. Quando tocca non solo la nostra persona nella malattia, nel dolore, nella sofferenza, ma quando tocca per esempio l'amico. la morte dell'amico. La morte dell'amico è la nostra esperienza possibile della morte che confuta, diciamo, in modo radicale la speculazione sull'immortalità dell'anima. L'amico muore e muore per sempre. Muore in modo, uso una parola che Roland Barthes mette al centro del suo libro dedicato alla morte di sua madre, al lutto per la perdita della madre, quando dice il dramma del lutto consiste nel fatto che la morte, quindi la perdita di chi abbiamo amato, è definitiva. Questa parola a cui Roland Barthes ha un peso fondamentale. Definitiva significa che non c'è ritorno. Tornerò su questo punto. è non c'è ritorno possibile. Non c'è ritorno possibile dalla morte. La morte rende la perdita definitiva. Sottolineo questa parola ritorno, nostos, perché è una parola che si trova al centro della figura della nostalgia. Nostos, algos, dolore per il ritorno. è ciò che costituisce diciamo etimologicamente questa parola, la parola nostalgia. Nella morte noi faremmo esperienza di una perdita definitiva, irreversibile. Allora lì questa definitività della perdita ci tocca. E ci tocca nel senso che noi passiamo dalla si muore in guerra, in guerra si muore, al fatto che facciamo esperienza ravvicinata della morte è morto l'amico. Quindi si passa da quello che Heidegger descriveva come l'anonimato del si, del man, dove si muore, significa che non muore nessuno, che la morte resta anonima, all'esperienza della morte dell'amico come qualcosa che ci tocca. Ci tocca e restringe la nostra vita. l'esperienza del lutto è, per questo Freud, per il Freud delle considerazioni sulla morte e sulla guerra, è un'esperienza di restringimento dell'orizzonte della vita. Non c'è più gioia, non c'è più apertura, non c'è più speranza, non c'è più ambizione, sono tutti termini di Freud, non c'è più gioia, non c'è più speranza, non c'è più apertura, non c'è più ambizione, c'è solo la crudeltà della perdita definitiva dell'amico, della perdita definitiva dell'amico. Ma Freud ci prende per mano e ci porta in un posto, dopo questa premessa, in cui noi non vorremmo andare, e questo è il carattere veramente disincantato, persino cinico, del pensiero freudiano, quando aggiunge che la morte dell'amico, cioè la morte della persona noi cara, non è mai, dice Freud, senza ambivalenza. Come dire, esiste una sorta di componente aggressiva in ogni lutto. Che cosa vuol dire? Esiste una sorta di componente aggressiva in ogni lutto? Vuol dire che nell'esperienza della perdita, l'oggetto perduto viene, come dire, odiato, non solo suscita cordoglio, strazio, pena, la sua perdita, ma questa perdita diventa in modo obliquo uno strano oggetto d'odio. Perché? O perché chi è morto ci ha abbandonato. e dunque noi odiamo chi abbiamo perduto perché chi abbiamo perduto ci ha lasciato cadere nella fossa? O perché chi abbiamo perduto in realtà esaudiva il nostro desiderio inconscio di liberarci di lui? Cioè la sua presenza era diventata ingombrante. C'è un caso clinico negli studi sull'isteria di Freud, prima grande opera di Freud, dove si vede una cecità isterica che si produce perché questa donna di fronte all'agonia dell'amica aveva espresso un voto di morte nei confronti dell'amica in quanto era interessata ad accoppiarsi col suo partner. Quindi diciamo lì c'era un voto di morte nei confronti diciamo dell'amica che era diventata un ostacolo alla realizzazione del desiderio. Come vedete Freud non fa sconti. Cioè anche nell'esperienza più penosa che è l'esperienza del lutto così come la sublime teoria dell'immortalità dell'anima sorge dal cadavere dall'incontro col cadavere allo stesso allo stesso tempo l'esperienza penosa del lutto porta con sé una quota d'odio e di rancore e di risentimento. Freud lo scrive molto chiaramente ogni lutto porta con sé un odio rimosso per il nostro caro defunto. Altra osservazione clinica abbastanza cinica mi accorgo mentre ve ne parlo altra osservazione clinica in tutti cito sempre Freud in tutti coloro che mostrano un eccessivo attaccamento ai propri familiari un'eccessiva preoccupazione sulla salute dei propri familiari ebbene in tutti questi troviamo un voto di morte che se ne vadano al più presto. Non è molto confortante no? non è molto confortante quando Lacan commenta questi passaggi di Freud li corregge un po' come dire smorfa l'acidità niciana di Freud e dice non ha tutti i torti ma questo e poi aggiunge in realtà quando facciamo il seminario sto citando il seminario 6 la lettura che Lacan fa dell'amleto di Shakespeare quando parla della morte del padre e aggiunge qualcosa di altamente significativo per noi la morte di un padre non realizza solo il voto edipico cioè il fatto che il padre non esista più come ostacolo rispetto alla realizzazione incestuosa del desiderio ma perché la morte di un padre segna sempre uno spartiacque nella vita di un uomo e di una donna perché la morte di un padre ci mostra che non c'è riparo dalla morte si può pensare che e qui Lacan è molto preciso che uno dei grandi compiti della figura del padre sia quella di proteggerci di essere un riparo un rifugio nei confronti dell'incontro con la morte il padre è ciò che ammortizza questo incontro filtra questo incontro lo scudo dice Lacan nei confronti del reale della morte la morte di un padre mostra che non c'è nessun riparo possibile nei confronti della morte lo dico per i lacaniani presenti in sala che sono diversi esseri a grande barrato è il matema che traduce la morte del padre così come Lacan la legge nel seminario nel seminario 6 ecco ma mentre torniamo a noi mentre Freud costruisce questa idea che la morte deve essere misconosciuta affinché sia possibile vita collettiva che noi non potremmo vivere tenendo a fianco la morte che la rimozione della morte è una condizione della vita della comunità e poi riporta al cuore della comunità l'esperienza della morte in un'altra forma non più nella forma della fine della fine della vita ma nella forma dell'aggressività come dire secondo Freud sto sempre citando questo piccolo testo la storia dell'umanità è la storia delle guerre la storia dell'umanità è la storia di ripetuti assassini dice Freud al punto tale che l'umanità stessa lo cito sempre nel suo incoraggiante ottimismo è una masnada di assassini l'umanità è una masnada di assassini e dunque la rimozione della morte implica il ritorno del rimosso della morte nella forma di una spinta irriducibile all'aggressività di una lotta morte dell'uno contro l'altro dell'esperienza che il gesto di Caino nella Torah incarna dell'odio fratricida come dire la pulsione non è mai altruista non esiste amore per il prossimo il gesto che istituisce l'entrata dell'umano nella storia o meglio il primo gesto che istituisce l'entrata dell'umano nella storia è il gesto fratricida Caino uccide Abele questo significa per Freud che l'odio l'aggressività il voto di morte precede l'amore che l'odio è più antico e più originario dell'amore allora se ci fermiamo su questo punto l'odio è più antico più originario dell'amore attraverso l'odio ritorna la morte che diciamo la convenzione sociale ha rimosso e che la storia dell'umanità è la storia delle sue ripetute guerre allora dobbiamo dire che questa aggressività ha originariamente uno scopo che Freud descrive come difensivo l'aggressività l'odio è la prima forma patemica di difesa dell'organismo vivente nei confronti delle perturbazioni generate dal mondo esterno e dal mondo interno quindi diciamo è una modalità difensiva o di evacuazione o di riparo delle tensioni o che attraversano l'apparato o che provengono dall'esterno l'immagine che Freud ci dà a volte è un'immagine che ci suggerisce molto semplice cito questa tra le tante che potrei citare l'umano viene descritto come un uovo come un uno diciamo compatto bombardato dalle stimolazioni esterne e dalle tensioni interne che può difendere la sua integrità solo attraverso l'aggressività l'aggressività è inizialmente per Freud una modalità di difesa nei confronti del mondo che appunto in quanto estraneo è al tempo stesso ostile questa equivalenza che è l'inquevalenza fondamentale secondo Freud per descrivere il prossimo il prossimo non è degno d'amore perché che in quanto estraneo è luogo di una ostilità fondamentale e qui spieghiamo anche diciamo la e concludo questo riferimento per entrare in al di là del principio di piacere vediamo l'ultimo punto che potremmo mettere in luce di questo piccolo testo che è il rapporto stringente tra l'aggressività e il narcisismo questo è un tema che Lacan e Melania Klein sviluppano ampiamente il rapporto tra narcisismo e aggressività consiste nel fatto che se noi siamo questo uovo questo uno originario e si tratta di difendere i suoi confini si tratta di rendere i più impermeabili possibili confini si tratta di rafforzare i confini si tratta come dire di azzerare o di ridurre al minimo le intrusioni dell'altro le intrusioni dell'altro ecco da dove sorge il gesto di Caino perché Caino uccide Abele potremmo dire nella logica di Freud perché Caino uccide Abele io penso che Freud abbia letto con grande attenzione la Torah su questo punto perché Caino uccide Abele per due ragioni fondamentali Caino uccide Abele perché Abele è come dire il luogo di una alterità che destituisce Abele dal primato dell'unicità da questo punto di vista Abele è il luogo di un complesso di intrusione di Caino Caino è il gesto di Caino sarebbe la risposta all'esperienza dell'intrusione di Abele dobbiamo immaginarcelo Caino è il figlio unico nel senso diciamo mitologicamente reale del termine l'unico figlio al mondo l'arrivo di Abele il figlio aggiunto spezza questa illusione narcisistica e dunque Abele è costretto a fare esperienza dell'alterità il gesto di Caino è il rifiuto del lutto dell'uno questo sottolineatevelo perché è un punto centrale diciamo Caino rifiuta il due rifiuta l'esperienza del due nel nome dell'esperienza dell'uno rifiuta la frantumazione dell'uno e dunque prova al posto di elaborare il lutto dell'uno di restituire l'uno cancellando il due riaffermare l'uno sono l'unico figlio non c'è alcun fratello con cui condividere la vita dunque ribadire l'esistenza dell'uno rifiutando il due ricordiamoci che sempre il passaggio dall'uno al due implica il lavoro del lutto si potrebbe dire che il lavoro del lutto è quel lavoro simbolico che consente il taglio dall'uno al due se pensate per esempio nella Torah questo è il fondamento della democrazia c'è democrazia quando c'è lutto per una sola lingua nei babelici è quello che accade non c'è una sola lingua non c'è un solo popolo la legge che tiene insieme i popoli è la legge della traduzione della pluralità delle lingue dunque a costituire il fondamento della comunità è il lutto per la sola lingua per la lingua come luogo dell'uno perché la lingua è invece il luogo appunto babelico della pluralità delle lingue della pluralità delle lingue seconda ragione per cui Caino dà la morte ad Abele è che Caino come Lacan ha messo in luce Caino desidera essere Abele e perché desidera essere Abele perché Abele è amato da Dio quando Caino e Abele portano i loro doni a Dio Dio sceglie di preferire i doni di Abele a quelli di Caino alcuni si chiedono ma perché per uno psicanalista è molto chiaro perché per educare Caino alla legge del 2 e dire guarda che anche tuo fratello fa delle cose significative diciamo e dunque spezza l'illusione narcisistica dell'uno e mostra che il 2 ha una consistenza che implica una perdita ecco il lutto e come reagisce Caino all'esperienza del rifiuto a cui Dio lo sottopone il testo della Torah è molto chiaro si abbatte si abbatte si deprime la depressione è da questo punto di vista il rigetto del lutto voglio restare attaccato all'uno non voglio procedere nel luogo del 2 Caino si abbatte perché vorrebbe ripristinare l'uno e il passaggio all'atto che si compie immediatamente dopo questo abbattimento non a caso è il passaggio all'atto mortale che darà la morte al fratello ecco se noi devo saltare delle cose se no non ce la faccio a raccontarvi tutto se noi adesso abbiamo costruito questo sfondo arriviamo dal di là del principio di piacere sono cinque anni tra questo testo e al di là del principio di piacere in mezzo c'è la guerra e quando Freud scrive al di là del principio di piacere ci fa fare un salto nel vuoto dicevo perché ci porta ancora più lontano rispetto all'idea che egli stesso si fa che la morte sarebbe oggetto di una fondamentale e necessaria rimozione in al di là del principio di piacere la morte non è affatto oggetto di una fondamentale e necessaria rimozione piuttosto Freud sviluppa in al di là del principio di piacere il nesso che vi ho appena raccontato tra la morte quindi l'aggressività mortale e il narcisismo è questo il nesso che porta diciamo all'elaborazione della pulsione di morte quando Caino colpisce il fratello colpisce il fratello perché il fratello incarna il suo ideale esteriorizzato ma colpendo il fratello colpisce se stesso sappiamo quanto è dura la punizione a cui Dio lo sottopone ramingo e fuggiasco nella terra eccetera cioè l'erranza la perdita totale di tutto inizia a partire appunto a partire dal gesto dal gesto fratricida di Caino come dire il tentativo di preservare l'uno comporta la perdita di tutto questo è un punto essenziale la spinta a preservare l'uno comporta la perdita di tutto quindi la spinta a essere tutto comporta la perdita di tutto e allora se noi entriamo con tutte e due i piedi nel testo di al di là del principio di piacere che cosa vediamo qui vado rapido per arrivare ai punti che due o tre punti che voglio fare emergere beh intanto noi vediamo che lo scopo della vita non è affatto secondo Freud la difesa della morte che lo scopo della vita non è il bene diversamente da quello che avevano teorizzato in modi diversi Aristotele e Bentham quindi l'etica aristotelica e l'utilitarismo di Bentham quello che orienta la nostra vita non sarebbe affatto nell'ordine edonistico del piacere dell'equilibrio della giusta moderazione della temperanza noi non perseguiremmo affatto il nostro benessere come si dice oggi lo scopo della vita non sarebbe la realizzazione del bene diciamo così lo scopo della vita sarebbe fondamentalmente la negazione della vita a cosa spinge la vita la vita spinge alla negazione dell'inquietudine della vita verso dove spinge appunto trib verso dove spinge la forza della pulsione di morte la forza della pulsione di morte spinge l'inquietudine della vita verso la quiete dell'inerte questa è la fantasia diciamo metapsicologica di Freud ritornare ecco di nuovo la parola che ci interessa ritornare indietro c'è una dimensione conservativa della pulsione la pulsione di morte mostra che la pulsione non è solo una forza di apertura ma che è una forza di chiusura cioè che esiste una dimensione fascista della pulsione la pulsione spingerebbe la vita a rifiutare l'inquietudine della vita cioè a rifiutare l'inquietudine del due cioè a rifiutare l'inquietudine della mancanza cioè a rifiutare l'inquietudine del lutto dell'uno questo è quello che dice Freud allora esiste una pulsione trib after nella lingua tedesca questa parola trib after che è il modo in cui Freud descrive Todes trib trib after vuol dire la pulsione più pulsionale perché la pulsione di morte più pulsionale delle altre pulsioni stando a Freud Lacan da è una lettura molto diversa da quella che sto ricostruendo ma se rimaniamo al testo di Freud la pulsione di morte è più pulsionale perché rifiuta la vita e rifiuta la vita perché la vita è il luogo di una inquietudine insopportabile c'è qualcosa di insopportabile nella vita e dunque la morte diventa non non l'oggetto della rimozione ma la meta della pulsione questo è sconcertante cioè pensare che la morte quindi la spinta verso lo zero verso il nulla verso la negazione della vita sia in realtà la meta più pulsionale della vita questo è lo scandalo che certe letture lacaniane della pulsione di morte vogliono attenuare ma se restiamo al testo di Freud questo è lo scandalo vi faccio un esempio a cui sono molto legato Lacan diceva che ha letto questo libro le confessioni di Agostino 32 34 volte e invitava i suoi allievi a leggerlo non così tanto ma almeno leggerlo una volta ma se voi leggete le confessioni di Agostino c'è questo famoso racconto del furto delle pere permettetemi di indugiare un attimo su questa scena il furto delle pere nel senso dei frutti è il furto delle pere abbiamo Agostino adolescente la sua banda di amici un albero di pere la cinta gli amici si fanno forza per oltrepassare il confine rubare le pere prima lettura che apparentemente sarebbe la lettura che Lacan stesso riprende in fondo nel seminario 7 la cinta il limite il divieto incoraggia incendia anima il desiderio di trasgressione della legge secondo il detto Paolino per il quale appunto è la legge che istituisce il peccato e dunque il godimento non sarebbe mangiare la pera Agostino lo dice ce ne avevamo tante di pere non è mangiare la pera ma sarebbe la trasgressione della legge e dunque l'esperienza del peccato come esperienza di godimento lettura diciamo Paolina ma Agostino ci dice qualcosa molto più radicale di così che fa risuonare il problema che Freud pone col Todes Trieb cosa ci dice Agostino non è solo perché abbiamo percepito il brivido della trasgressione che quella è un'esperienza appunto di cui ci ricordiamo ma perché questa trasgressione implicava qui uso un termine che bisognerebbe interrogare il nostro amico Ivano Dionigi o un grande latinista diciamo perché possa risuonare in tutta la sua potenza lo dico come è stato tradotto da Giovanni Reale perché puntavamo a sterminare noi stessi sterminare noi stessi cioè lo sprofondamento nel godimento quello che Lacan chiamerà la jouissance mortelle lo sprofondamento nel godimento non implica solo il godimento della trasgressione della legge ma implica una sorta di auto annientamento sterminare se stessa e allora qui troviamo le due facce della pulsione di morte cioè la prima faccia è una faccia evidente chiara cioè la pulsione di morte spingerebbe la vita alla mortificazione della vita da questo punto di vista Freud dice io ho solo un maestro lo dice in questo testo molto chiaramente il mio solo maestro è Schopenhauer e che cosa insegna Schopenhauer insegna che la volontà di vita la pulsione di vita genera solo sofferenza dolore disperazione e che la sola possibilità che noi abbiamo per emanciparci dal dominio della volontà di vita è l'ascesi cioè la nirvanizzazione della vita cioè lo spegnimento della vita l'avveramento della vita questa è la prima faccia della pulsione di morte letterale vogliamo fuggire dall'inquietudine del 2 dall'inquietudine della vita verso appunto le braccia della morte se volete questa inquietudine si manifesta molto bene nella melanconia che non a caso Freud descrive come disimpasto tra la pulsione di morte e la pulsione di vita cosa resta quando resta solo la pulsione di morte regressione verso l'uno rifiuto della vita spegnimento del sentimento della vita mortificazione della vita l'uno senza l'altro ma abbiamo una seconda faccia che è quella che Agostino mette in luce in questa immagine dello sterminarsi di darsi la morte attraverso appunto lo sprofondamento nel godimento che è per esempio che è per esempio ne parlerà Tatiana Pitavì che abbiamo invitato che è la nostra ospite francese domani per esempio il godimento tossicomanico nel godimento tossicomanico che cosa vediamo vediamo che l'eccesso del godimento quindi l'eccesso di un godimento che vorrebbe essere vitale si capovolge in un godimento mortale è l'effetto che abbiamo quando per esempio i mistici parlano di un grande rumore che produce il silenzio il silenzio può essere prodotto o dalla riduzione del suono o da un grande suono è il suono che produce l'effetto di silenzio l'eccesso che vorrebbe essere vitale che produce appunto un godimento un godimento di morte e che Freud chiama questo godimento di morte appunto un ritorno all'uno un rifiuto del due se il due appunto è il luogo dell'inquietudine ecco allora mi avvio a interrogare la nostalgia da vicino adesso ecco allora perché Freud dice nella pulsione di morte si realizzerebbe un desiderio nostalgico cos'è la nostalgia abbiamo detto il dolore del ritorno la nostalgia per come sta emergendo da questo racconto che sto facendo di al di là del principio di piacere è la nostalgia di chi si allontana dall'origine di chi si separa dall'uno e di chi agogna a ritornare presso l'uno secondo Freud la cosa della nostalgia di questa nostalgia melanconica di questa nostalgia mortifera di questa nostalgia che assume la forma del rimpianto è il corpo della madre Freud lo dice in tante situazioni il corpo materno sarebbe il luogo appunto rispetto al quale la pulsione di morte in fondo sospinge la vita nell'indifferenziato dell'uno nella origine che precede la frattura del due e allora ci sarebbe indubbiamente questa spinta regressiva della pulsione di cui abbiamo fatto gli esempi della tossicomania per un verso e della caduta melanconica per l'altro verso cioè mortificazione della vita melanconia o come dire consumazione maniacale della vita nel godimento tossicomanico abbiamo come dire i due estremi ma in entrambi questi movimenti anche nel godimento tossicomanico ci sarebbe la spinta a riunificarsi diciamo così all'uno qual è il problema che Freud non solleva che possiamo sollevare diciamo che non c'è nessun uno da recuperare che non c'è nessuna terra da cui tornare che non c'è nessuna origine che possiamo ripristinare che non c'è nessuna sfera che possiamo ricostituire no? è il grande problema per esempio che emerge attraverso la figura straordinaria di Ulisse che in modo un po' troppo sommario per esempio Levinas contrappone a quella di Abramo perché in Ulisse vi sarebbe il recupero dell'uno attraverso il ritorno nella propria casa non nella propria terra in realtà per i lettori dell'Odissea è evidente che quando Ulisse torna riparte immediatamente cioè il giorno dopo è di nuovo in mare verso una terra impossibile da raggiungere come dire cosa ci dice che lo stesso Ulisse che è la figura più celebrata della nostalgia sebbene questa parola non appaia mai diciamo nel testo omerico beh non c'è alcun ritorno a casa possibile non c'è alcuna casa non c'è alcun suolo non c'è alcun uno l'uno non è mai uno ma è sempre due e allora questa nostalgia come rimpianto che veramente definisce clinicamente l'esperienza melanconica se voi ascoltate un soggetto melanconico parlerà del passato sempre con rimpianto ma non solo i soggetti strutturalmente melanconici cioè la psicosi melanconica ma anche i soggetti che non sono psicotici ma hanno vissuto un'esperienza radicale di perdita portano con sé un tratto melanconico che consiste nel rimpiangere costantemente il passato idealizzandolo come perduto irreversibilmente come dire noi verifichiamo sempre che in ogni lutto residua una traccia melanconica cioè c'è qualcosa di indigeribile in ogni lutto che porta il soggetto anche se non è psicotico all'autorimprovero se avessi detto quello se mi fossi comportato così se non avessi preso quella decisione allora tutto sarebbe diverso l'interrogazione è sempre rivolta al passato perché la nostalgia rimpianto è una forma radicale della pulsione di morte che appunto ci distoglie dalla vita e che ci riporta costantemente verso l'impossibilità dell'uno ma è un'impossibilità a cui noi costantemente anelliamo per cui da una parte il ritorno all'uno si configura come un rimedio dall'altra parte l'impossibilità di questo ritorno incentiva l'esperienza del dolore il ritorno è impossibile aggiungo il ritorno è sempre impossibile in Ulisse c'è Abramo non c'è Abramo e Ulisse Abramo è un volto di Ulisse e arrivo invece alla parte costruens per non farvi piangere la parte costruens è la grande figura di Eros che emerge in al di là del principio di piacere in questo ritratto che ho provato a fare cosa sarebbe Eros Eros sarebbe davvero l'istanza al di là del principio di piacere perché la pulsione di morte radicalizza il principio di piacere cioè se il principio di piacere è evitare le tensioni e preservare l'equilibrio la pulsione di morte radicalizzerebbe il principio di piacere nella misura in cui trasfigurerebbe il principio del piacere nel principio di inerzia o nel principio di nirvana il principio del nirvana è una radicalizzazione del principio di piacere e dall'altra parte invece abbiamo Eros che è davvero oltre il principio di piacere perché sospinge la vita verso la vita e allora qui anche Eros porta con sé una nostalgia questo è il punto che mi interessa di più e l'ho lasciato per ultimo Eros porterebbe in al di là del principio di piacere porterebbe con sé una nostalgia già in Platone Eros porta con sé una nostalgia ma in Platone la porta con sé nella forma come dire del rimpianto dell'uno e della ricostituzione dell'uno qui mi pare che si apre una finestra su una versione della nostalgia abbastanza inaudita e per diciamo provare a leggervela faccio riferimento non più a Freud ma a tre film che vi riassumerò molto rapidamente quindi non a Freud ma a Tornatore a Sorrentino e a Clint Eastwood dobbiamo cito tre film molto famosi per cui tutti li abbiamo visti sono Nuovo Cinema Paradiso di Tornatore La Grande Bellezza di Sorrentino e commentato magistralmente ieri sera dal nostro amico Andrea Bellavita Gran Torino di Eastwood questi sono tre film che parlano della nostalgia ma parlano di una nostalgia che eccede la dimensione melanconica mortifera della nostalgia in tutti e tre questi film noi abbiamo degli oggetti nel grande allora vado per ordine nel Nuovo Cinema Paradiso è la bobina la bobina che raccoglie i vecchi frammenti dei film dove le scene di passione erotica erano censurate dal prete abbiamo un oggetto la bobina che torna dal passato qualcosa torna dal passato come accade anche per il melanconico che non riesce a separarsi dal ritorno del passato qui c'è un oggetto che ritorna abbiamo il diario di Elisa che è la prima amante del protagonista della grande bellezza che scrive un diario dove descrive il rapporto con il protagonista della grande bellezza come l'unico grande amore della sua vita non ce ne sono stati altri abbiamo questo diario che viene recuperato dopo la morte della donna anche qui un oggetto del passato che ritorna nel futuro e infine la Gran Torino del 1972 di Eastwood che viene lasciata in eredità al piccolo Tao o Tardo come lo chiamava Walt questi tre oggetti attenzione questi tre oggetti assomigliano al fenomeno astrofisico che probabilmente qualcuno di voi ha ascoltato in queste giornate di Qum delle stelle morte noi sappiamo che appunto i nostri cieli quando d'estate li contempliamo al mare pieni di luci di stelle noi stiamo vedendo una luce che proviene da un corpo morto da milioni di anni raccogliamo una luce che viene da un corpo morto questo è il mistero di una nostalgia che non è un rimpianto ma di una nostalgia che ha a che fare con l'eruzione nel nostro tempo di qualcosa che viene da molto lontano e che illumina la nostra esperienza del mondo ecco Eros Eros è prendiamo l'esempio della grande bellezza il protagonista è uno scrittore ha scritto un romanzo di straordinario successo poi la sua vena creativa si è inaridita è il re della mondanità ma è un re triste non ha desiderio non ha vitalità vive in questa apatia frivola che egli stesso giudica con disincanto e cinismo il ritrovamento di questo oggetto consente la ripresa della scrittura del secondo romanzo il ritorno di questo oggetto coincide con la riapertura della possibilità erotica della scrittura nel nuovo cinema paradiso l'incontro con la bobina illumina il fatto che la sua scelta di allora di non provare nostalgia per il suo paese non lasciarti fottere dalla nostalgia gli dice Alfredo alla stazione ferroviaria non voltarti indietro non tornare più da noi non guardare cosa diventiamo ecco quella bobina torna diciamo dal passato ma non torna per richiamare all'indietro torna per sottolineare al soggetto che la luce delle stelle morte ha portato in avanti la vita e Gran Torino per chi c'era ieri l'immagine dell'auto ereditata che in una bella giornata di sole costeggia l'oceano illuminata appunto dalla luce delle stelle morte concludo questa rappresentazione della nostalgia come gratitudine rispetto a ciò che è stato non come tentativo di recuperare di ritornare a ciò che è stato manifestazione radicale della pulsione di morte ma essere grati per ciò che è stato per la luce che noi continuiamo a ricevere dalle stelle morte pensate cosa faceva Morandi nel suo studio Giorgio Morandi il pittore delle bottiglie per intenderci raccontano i suoi biografi che nel suo studio lasciava che la polvere si depositasse sugli oggetti e sgridava le sue sorelle con cui viveva quando pulivano le bottiglie toglievano la polvere perché la polvere doveva rimanere sugli oggetti perché l'oggetto impolverato non era l'oggetto luccicante ma era la polvere che portava la luce la luce non emergeva dalla ripulitura dell'oggetto ma emergeva dalla polvere la polvere è il segno della luce allora la luce delle stelle morte questo fatto che la polvere sia il segno della luce ci apre diciamo a una figura della ripetizione che noi possiamo leggere attraverso eros e non attraverso thanatos a una nuova rappresentazione della ripetizione certo che qualcosa si ripete torna il diario di Elisa torna la bobina del vecchio prete torna la la gran torino ma tutto ciò che torna è nuovo tutto ciò che torna è abitato da una luce nuova concludo con questa citazione biblica dal Coelet giusto per farvi piangere o ridere siamo polvere destinati a tornare polvere no? vi ricordate questa sentenza? polvere destinati a tornare polvere ebbene la figura dell'eros di cui Freud ci parla in fondo è la figura che non ci porta a contrapporre come dire la polvere alla luce per un verso c'è una dimensione inesorabile della ripetizione che è ciò che consuma la vita e trasforma la vita in polvere è diciamo la legge di cui parla Coelet che è la legge della morte che è la legge del divenire per l'altro verso la polvere se ci pensate pur nella sua caratterizzazione aerea di semimateria come la cenere di cui parla Derrida cioè non ha consistenza non ha pesantezza ma la polvere non è semplicemente ciò che consuma la vita ma anche ciò che resta della vita e la polvere laddove resta diventa luce come Morandi ci insegna grazie grazie a tutti